salve ragazzi io sono shock e oggi siamo su overwatch volevo provare da solo la nuova modalità fuori vincitori ma per sfortunatamente sono entrate due persone tra cui un reinhard dorato e una cipolla coi tentacoli minerale è lui ciao youtube e ciao shocks e la cipolla coi tentacoli è lui ciao shocks ciao min ciao gabrie ciao min ciao a tutti e due io sono una cipolla potentissima una cipolla coi tentacoli proprio che poi esiste il pelucino sta roba bellissimo e coccoloso vabbè al bando alle cipolle coi tentacoli e reinhard dorati iniziamo questo fuori vincitori eccoci qua ragazzi a necropoli ovviamente ne hanno aggiunto tre nuove maffe su le 3v3 le 1v1 una in necropoli foresta nera e l'altra è castillo che vi faremo vedere anche nei prossimi video visto che rimarranno sempre rimarranno così il che è un bene perché avere il vostro nano svizzero di fiducia è il nano svedese ma affatto vedermi la mia torrezza come hai fatto a morire? eh la stupida fara che mi ammazza che mi spara ma che che? no vabbè non so che faccio vieni c'è la mia torrezza mi spiace quanto non c'è più io vabbè io sono morto ci siamo iniziati così male che in confronto a un prosciutto cotto di parma ci stende ma almeno una cosa buona è che quegli eviti lì non useranno non useranno mai personaggio quei personaggi lì io mi riprendo di nuovo perché ho dieteto malissimo e io prendo prenditi un tempo per l'amore di dio prende no no se ti prenderò da che non la prendo io io prendo un tempo prendi la ussa io passerei per sinistra ragazzi eh io ti proteggo io ti proteggo io mi becco i proiettile Cristo giun dio no 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 se vabbè mia nonna ma quanto ti vuole a caricare un cacchio di scudo no tre 6 ce ne vuole ce ne vuole ma vuoi morire non vuoi capire se non ammatti merci te credo che poi ora riesci ad ammazzarlo vedi ma fa un culo noi vi siete fatti ammazzare da un rogg non siamo riusciti perché avevano finito la munizione cambiamo la strategia cambiamo strategia anche se io prenderei in più un curatore adesso quindi niente dai ragazzi ce la possiamo fare e poi il bello sapete perché stiamo perdendo perché il gioco è così fatto bene che ci mette un argentone contro mi sembra ovvio mi sembra ovvio dico ma la prima continuata risposta manca ma è vero se tu gli uomini però c'è un giro all'interno io sto per essere soffocato ma è giusto ci sono presi tutti e dai mica ma viene come vieni come vieni con me vieni dietro e cazzi mi sa che abbiamo perso no vabbè alla fine la prima partita della giornata e fa sempre schifo bello schifo no vabbè all'interno no vabbè all'interno no vabbè all'interno no vabbè all'interno ti sto curando è il mio globo che è lento a curare che è rimasto in vita ancora tra troia massimo grande siamo sopravvissuti in due Ok, come vedete i personaggi Rordog, Zarya e Svegnata non li possiamo più utilizzare, visto che abbiamo vinto con quelli E' il mio mouse, è il mio, è il mio mouse, è il mio controller in partito Io mi metterei, allora io Sombra, metto Anzo, bezzo di merda, lo volevo prendere io Anzo Vabbè mi prendo Sombra ormai Veloce, veloce, veloce Beh, secondo me perché sento che sono camperati e ci vogliono tipo, oh, mozza, ma dici Dai controllo io che sono Sombra Dietro Ora mi furo, grazie Serviti a qualcosa Viene dietro Vabbè il flank è ovvio, è bello, è bello il flank Mina di noto No, meglio ci state insieme, dobbiamo stare insieme No, dai, in serio Me ne va, me ne va Fatto geniata Eh io sarei per morire però Se abbiamo perso ragazzi Nica che schifo Vabbè mamma mia Abbiamo perso ragazzi Abbiamo perso Beh, prima era andata troppo bene, adesso dico No, 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 vabbè Ma perché? Ho perso? Cioè ero da solo, senza cure e questi ti beggano Maddana mia è come se il gioco fosse.. Ste, ma, però Avere un argentone contro Love the game l'ha fatta a mine perché è un grande Grazie Certo, continua curata, poi vabbè Vabbè merci, merci, cura Ah va in culo E poi giustamente Robo quella dietro Vabbè ragazzi ci rivediamo Alla prossima partita Cazzo 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 E siamo ritornati ad ecobase Antartide ma che merda Di pappa questa sempre quella Comunque ragazzi Io stavolta mi metto un curatore Dai però voi mettetevi qualcosa di più forte Così vi do una mano Io sono la Mercy svizzera dei poveri Guarda quanto sono bella Dai vi do una mano io Perché Gabriel sei una scimmia Perché Nina ma perché Che palle No stai lieto Ti proteggo io Basta che andate avanti Si mette la scimmia Dai andate Vai scimmia Mi proteggo io Poi che la scimmia non è forte Questi si mettono i cecchini Vi accetto L'ho uccisa io Questo è un curatore Dai vi curo io bambini Vi curo io Pum 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 Cecchini Dove è Rodog? Rodog Sieni qua Si è rimasto in vita Eccola Muori c'è ragazzi non avete fatto niente ho fatto solo io cioè io vabbè ho agganziato una video maker e allora io voglio provare no lucio non lo metto più tardi adesso non so chi mettermi andiamo con soldato dai mi ne mettiti un tank subito 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 cosa ti sei messo? ho risa vabbè è il topo ho risa ciao salve saluti ciao salve salve ancora ho detto ciao aiaa a mori ammazzato dannatissima widow maker ma perchè ci vuoi usare i proiettili ahah non puoi farmi un cazzo non ti attacchi non è morto cura mi cura mi cura ma cura mi uccidila ma secondo me c'è bisogno del mio aiuto ma che poi come cavolo ha fatto come cavolo ha fatto a morire a morire gabry devi stare con lui ti consiglio di mirare con Anna che cura più fretta via c'è via c'è via c'è ma che manca oh no guido maker non ce la faremo manca no ce la potete fare tanto sono è un solo un centino è un solo un centino bene da notare che uno nella squadra avversaria è abbandonato si ok per festeggiare questa vittoria mi metto mai c'è ah no voglio smartellare si ovviamente una una ragazza con poco 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 vestita abiti da festa leggeri va nel polo nord a ammazzare le persone eh ma io c'ho il riscaldamento dentro si te c'hai il mac con riscaldamento automatico che ti riscalda pure il culo anche mentre giochi addio io prendo una vita leggera e madonna mia Anzo che mi voleva uccidere ma che è nabbo ma cosa vuoi fare te attoriando ma ammazzati te attacchi te attacchi te attacchi no ma guarda dove cazzo finì guarda 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 dove cazzo guarda te ma dove siete qualcuno che mi viene ad aiutare no te attacchi gabrile mi morimo addio chi è il prossimo ah c'è la mia sorellina gemella ma aspettatemi che cazzo dell'ina a me no ma mi avete piazzato totalmente no strategia la curo io morta addio sorellina scraus vediamo un po' che ha fatto la play of the game secondo me l'ha fatta mine io l'ho fatta no no coiffini e poi a fio quello dei gabri devo cuore gli ab..., e basta Comunque ragazzi Da questo video è tutto Spero che vi sia piaciuto Lasciate un like e un commento Iscrivetevi al canale Alla prossima Bella Ciao Arrivederci